Ecco, come ha detto il sindaco, come ha detto Mario Conte, lui sceglierà le persone, perché poi alla fine per governare bene servono persone competenti e esperte. E Forza Italia si mette a disposizione in questo, rispettosa degli equilibri, sapendo che ci sono partiti più forti e partiti meno forti, però noi sappiamo di avere una squadra di persone capaci. Competenza e capacità umane e non solo meri calcoli elettorali, per la prima volta treviso nelle nuove vesti di coordinatore regionale di Forza Italia, Flavio Tosi ribadisce la linea del partito in vista delle amministrative. Un ruolo di lealtà che ha sempre avuto nei confronti di Mario Conte, doveroso anche perché è stato e sarà un ottimo sindaco. Quanto agli attriti tra Lega e Fratelli d'Italia, con i meloniani pronti a pesare e chiedere di più, l'ex sindaco di Verona risponde Sorgnone. Poi è in campagna elettorale, è una competizione positiva, bisogna correre per far meglio, per vincere il più largamente possibile e quindi una competizione positiva fra le liste ci sta. E in questa competizione positiva ci sono anche i forzisti trevigiani. Penso che nel fine settimana presenteremo la lista Treviso, siamo contenti della composizione, liberi professionisti, giovani, tante donne. Le infrastrutture, la rete viaria, le piste ciclabili e tutto quello che concerne lo sviluppo della nostra città. Dal centro ai quartieri, ecco, anche perché la maggior parte della popolazione, come ben sappiamo, è residente nei quartieri. A Treviso, un altro big del centrodestra, Antonio De Poli, l'Udici, avrà dei rappresentanti nella lista personale del sindaco uscente. Totale l'appoggio a Conte. Ho amministrato cinque anni bene, ma sono convinto che i prossimi cinque anni per Treviso saranno ancora migliori. E questo è il mio augurio. E per questo motivo noi sosteniamo con convinzione Mario Conte a sindaco e con tutta la coalizione del centrodestra. Conte. Grazie a tutti